Ciao e benvenuto nel mio canale YouTube. Sono il dottor Andrea Penna, preparatore fisico, personal trainer e allenatore di karate. Qui troverai diversi contenuti soprattutto per gli sport da combattimento ma anche per il fitness. Se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al mio canale e a curiosare un pochettino tra i miei video lasciando qualche like a quelli che preferisci. Ma sei ancora lì? Dai vieni, alleniamoci! Ciao!